Tutti i stress che esistono nei materiali, anche senza l'applicazione di qualsiasi esternale, sono termini di stress residuali. Stress residuali possono esistere in un componente e naturalmente aggiungere ai stress induziti da imparati. Il Reston MTS3000 è un dispositivo automatico per mesurare stress residuali dal metodo di standard. Il MTS3000 è potuto mesurare i stress residuali che sono presenti nei materiali, sia nel lab e sul sito. Ma ci sono molte applicazioni che necessitano alcune modifiche della procedura standard. Per esempio, quando hai bisogno di trillare materiali polimerici o compositi, quando non sono disponibili, e anche quando vuoi capire una profonda più grande di analisi. Per questo motivo, la tecnologia SYN ha sviluppato una versione modifiche del Reston MTS3000, con un motore elettrico che può essere servito a livelli di velocità diversi, da 50 a 50.000 round per minuto. In questo modo, è possibile trillare materiali polimerici e compositi, e anche metalli standard, MTS3000, con una profonda di circa 4 millimetri. Inoltre, questo accessorio può essere assemblato anche nel sistema standard MTS3000, semplicemente comprando il gruppo di motore elettrico. Per l'acquisizione di valutazione di valutazione, un amplificatore di ammplificatore digitale è usato. E il software dedicato permette il testo completo e la calcolazione dei stress risiduali, iniziando dai mesi strani. La connessione del sistema è molto semplice. Solo bisogna aggiungere alcuni cagli e avvicinare il sistema. Dopo aver installato il gauge di valutazione, puoi mettere il MTS3000 in posizione, e centrare l'acquipamento con il gauge di valutazione, Per i materiali metallici, è anche possibile dettagliare la superficie automaticamente, con un contatto elettrico. Prima di iniziare il misuramento, puoi scoprire alcuni parametri custom, come numero di passaggi e distribuzione della distribuzione, total depth, type of string gauge, material properties, and amplifier settings. Il tempo di delay between the steps, è anche un parametro molto importante, che puoi aumentare quando scegliere materiali polimerici. In questo modo, evitare la calzata locale del materiale, e aumentare la qualità del vostro misuramento. Il test è completamente automatico, con una visualizzazione di real-time delle strani rilassate durante il test. Questo processo automatico assicurirà molto alta relazione del vostro misuramento. A presto! 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 Grazie a tutti.